Ciao a tutti amici del Azzurri, eccoci qua dallo stadio Giuseppe Meatto, oggi seggiolini arancioni, eravamo al primo arancio laterale E' finita, 4-0 poker, siamo agli ottenuti finale, partita abbastanza facile, in discesa già in partenza Ranocchia, incredibile gol assurdo, in difesa, ha beccato un po' sia, buona partita di tutti, siamo contenti Politano ha dato quella freschezza giusta, Lautaro poverino purtroppo non ce la fa fare tante partite per 90 minuti Stadio che ha fatto sentire, tra l'altro loro erano 6.000 complimenti a quelli del PN, perché sono stati bravissimi, sono fatti sentire per 90 minuti Al di là del risultato, poker assurdo, cioè poker assurdo, incredibile, diciamo che il livello loro è aspettabile un po' Perché comunque loro sono venuti un po' con le gambe che ritremavano, perché anche un po' si è visto, non hanno fatto nulla Abbiamo dominato la partita, 4-0, anche Vecino tra l'altro non ha giocato male No, comunque è stata la partita, faccio i dulci, chi più chi meno, alla fine è diventato il risultato, il poker Niente, questo è domani ore 13, sorteggi Vediamo un buon sorteggio Vediamo, speriamo esatto, un buon sorteggio Comunque siamo ancora agli ottavi, non siamo quindi chissà ancora dove Quindi incrociamo le dita per domani Noi ci crediamo Noi ci crediamo, finché ci siamo dentro ci dobbiamo credere Arriviamo fino in fondo Adesso domenica video reaction di Fiorentina Inter e mi raccomando stiamo bravando Bella